Buongiorno e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, sabato 2 febbraio. Quali sono i temi fondamentali del giornale? Perciò detto perché tutti quanti i giornali oggi titolano sulla questione e sulla visita politicamente molto rilevante fatta da Salvini in Val di Susa. Tav, Di Maio e Salvini, duro scontro. E questo è il titolo del Corriere della Sera, un po' di tutti i giornali. E devo dire che il botta e risposta ieri non è che ce lo siamo inventati noi giornalisti per una volta perché quello è andato ministro, vice ministro in Val di Susa e quell'altro invece è rimasto a Roma e tutti e due ci sono detti delle cose completamente diverse riguardo al tunnel che in realtà è stato fatto. Ma questo tunnel famoso dove è andato Salvini ne ha, dicono le cronache dei giornali, percorsi 2,8 chilometri su 7 di tutto il tunnel già fatto. Giampaolo, qua non sto leggendo più nulla sul nostro sito, vedo Giampaolo che si è collegato ma sta scrivendo il suo romanzo quindi è un po' siamo in lista, siamo in astinenza di pezzi di Giampaolo Serino sul sito nicolaporro.it ma dicevamo scusate se bevo ma io mi sono fatto un bel caffè e non me lo bevo come si dice a Roma il punto fondamentale è che i 2,8 chilometri di camminata trionfale tra i suoi sostenitori e quelli fuori antagonisti che evidentemente sono stati isolati Salvini ieri se li ha fatti e Di Maio forse non ha fatto 2,8 chilometri ma ieri diceva il tunnel non c'è, non è stato scavato neanche un metro e quindi c'era questa plastica differenza tra i due. chi ha ragione difficile dirlo perché il tunnel ovviamente ed evidentemente c'è quello che non è quel tunnel è il tunnel che verrà utilizzato dalla Tavo, dall'alta capacità tra Torino e Lione quello è un tunnel come si dice che verrà utilizzato come via di fuga e come areazione per il tunnel vero quindi un lavoro è stato fatto, è stato pagato, io immagino che non ci sia un pazzo che possa immaginare di fare un tunnel è scavato nella montagna che non venga utilizzato soprattutto di 7 chilometri quindi anche un bambino di pochi anni capisce che quel tunnel è ancillare all'opera principale poi insomma che non serve per portare la ferrovia o altro, questo è un altro discorso sempre esso è fondamentale per la Tav. Repubblica in un colonnino come spesso fa e su questo Repubblica è maestra ci ricorda i 22 anni di odissea della Tav, le 8 autorizzazioni del Cipe, le 5 autorizzazioni delle via cioè delle compatibilità ambientali, insomma ci racconta la storia di un tunnel che veramente è imbarazzante in un paese in cui non si riesce a fare un tunnel, non ci si riesce a mettere d'accordo peraltro con un altro paese che lo vuol fare con finanziamenti per gran parte comunitaria è una roba che fa venire i brividi. Salusti dice che in realtà prende spunto dalla questione del tunnel per dire ma insomma la bugia di Salvini che ci dice che va tutto bene con Di Maio è una bugia dalle gambe corte, effettivamente hanno avuto una grande capacità di compromesso, oggi c'è un sondaggio su Repubblica che dice che è uno straordinario ancora successo elettorale nei sondaggi ma Repubblica ovviamente che è diventato il giornale forse più antagonista di questo governo ci ricorda come in realtà siano moltissimi i conflitti possibili in questa maggioranza. Beh io invito tutti quanti a leggere l'intervista che ha fatto Ponti, l'uomo che dovrebbe valutare la compatibilità e l'analisi costi e benefici di questo tunnel, sì ma richiede anche per me la TAV fatta appunto ma poi vi leggete Ponti e dire che è Maverick, dire che è un po' fuori dal comune, quello che si definisce io faccio il contafagioli e in quel cantiere non ci voglio andare perché tra l'altro è un piccolo cantiere misero, sono andato tante volte in cantiere perché io sono professore ma anche architetto insomma dai un po' il senso di un personaggio che vive fuori da ogni realtà, forse ottima quella professorale, forse ottive le sue intuizioni, no TAV, dichiarate, ma insomma io non affiderei a lui né il progetto di un'apertura di una finestra a casa mia né tantomeno un'analisi costi benefici di questa importanza. Leggetevi il contafagioli oggi, lui si definisce il contafagioli oggi sulla Repubblica, sul Corriere non mi ricordo chi dei due l'abbia intervistato e capirete in che mani abbiamo affidato, anzi Toninelli ha affidato questa valutazione. Nel frattempo a contrasto di tutto ciò Bekis sul tempo richiamato da Libero perché i due giornali sono connessi ci ricorda come ad Amatrice dopo tre anni non c'è un cantiere aperto, non ce n'è uno. Allora io non voglio fare, mettere sempre in relazione oggi un po' lo fa Mattia Feltri in un delizioso Feltrino, io mio padre ha rubato ma pensa quanto ha fatto il padre da Boschi, io non voglio mettere l'uno contro l'altro armati, però l'idea che ad Amatrice dopo tre anni di terremoto si stia ancora fermi senza aver fatto nulla, beh insomma un po' il senso di aver fatto molto poco, io lì presentai una scuola che venne fatta ovviamente dai privati e dalla fondazione Rava perché ovviamente si aspettavamo lo stato buonanotte, un'altra mi sembra sia stata fatta anche dal Corriere della Sera con l'architetto che voi non amate ma che comunque diede il suo lavoro gratis Boeri ed è stata sequestrata perché dicevano che non so quale paesaggio aveva rovinato, beh insomma l'idea che in questo paese dopo una tragedia non si riesca a fare nulla o meglio si fa qualcosa soltanto nelle ore dopo ma poi si molla tutto quanto come ad Amatrice, insomma fa bene beh chissà ricordarlo. Dall'altra parte il Sole 24 Ore oggi ci ricorda una cosa che pochi si ricordano e che c'è dall'altra parte dell'Adriatico, ci sono Montenegro, ci sono Croazia e non solo, cioè ci sono paesi che si danno da fare, ci fanno un mazzo così, Fiume probabilmente e questo se volete da rispetto nei confronti degli esuli un po' mi fa piacere un po' meno, Fiume rischia di diventare un porto logistico, una base logistica per il petrolifero più importante di Ravenna, beh insomma questa è una cosa incredibile e sapete da che cosa deriva? Deriva dal fatto che la Croazia sta iniziando a fare nuove prospezioni in Adriatico per trovare il petrolio, quello che questo governo sta rallentando perché siamo ancora sulla follia della no-triv, pare che i lavori oggi sul Sole 24 Ore, le persone che perderebbero il posto di lavoro sono 15.000 per le prospezioni e quindi abbiamo questo grande giacimento all'interno dell'Adriatico che come dice Prodi abbiamo da una parte abbiamo una cannuccia che lo aspira, la Croazia fiume e dall'altra abbiamo i no-tav, no-triv, no-caz che stanno lì a rompere le balle mentre quelli ci svuotano il petrolio che poi ovviamente noi utilizziamo al 90% perché noi non abbiamo alternativa rispetto a questa. Guerra fredda sia, questo è quello che tutti i giornali titolano secondo Zucconi, oggi Trump ne ha compieta un'altra delle sue e cioè ha bandito, ha smentito e ha rotto quell'accordo firmato all'8 dicembre, scusatemi, del 1987 tra Reagan e Korbachev contro il proliferare delle armi nucleari. Poi andate a leggere bene, anzi invece di leggere Zucconi, leggetevi oggi un'intervista straordinaria, nel senso che è utile per capire tutto dell'ambasciatore Massolo, oggi a capo dell'ISPI, il quale vi dice ma ragazzi quel trattato ormai era vecchio, bisognava rivisitarlo, altri presidenti l'avevano messo in discussione e il punto fondamentale è che non legava i cinesi nella non proliferazione delle armi nucleari, pensate un po' voi che follia oggi è non considerare la potenza nucleare dei cinesi. L'economia, l'ottimismo di Conte ricorda quelli di Berlusconi d'Antan, i ristoranti sono pieni, diceva Berlusconi e il 2019 invece dice Conte sarà ottimo, insomma tra i due forse mi fidavo più di Berlusconi a prendere le due vicende, perché il 2019 non sarà buono per niente per l'Italia, oggi secondo tutte le indicazioni il PIL crescerà la metà di quello se va bene, di quello che il governo prevede. Questo quanto è inciso sui BTP mori a longo, come sempre con affidabilità sul sole 24 ore, ci dice che sono saliti i tassi dei BTP, lo spread scusatevi dei BTP, anche se le aste sono andate benissimo, lo stesso sole 24 ore ci ha ricordato come sei mesi sono andati benissimo in asta, addirittura sono ritornati i tassi negativi sul BTP 5 anni e sul BOT come ad aprile, quindi su quello è andata bene, il punto fondamentale è che lo spread è aumentato a 262, il dato non è positivo, forse deriva dal fatto che nelle settimane precedenti si era molto abbassato, staremo a vedere, resta un fatto che è innegabile e che riguarda questo qualunque altro governo e che è incredibile che il differenziale tra i tassi italiani, cioè quanto paghiamo sul nostro debito enorme rispetto ai tedeschi sia 262 punti basi, cioè il 2,6% in più sulle scadenze a 10 anni, gli spagnoli 1,4% in più, i portoghesi 1,5% in più, insomma che noi si paghi più di portoghesi e spagnoli è da il senso del rischio che corriamo. L'Italia pone il veto unico paese in Europa al riconoscimento della presidenza di Guaidò in Venezuela, io non devo aggiungere altro per quello che è il disastro della politica estera italiana se così deve essere raccontata. si stanno tutti arrabbando con Maria Giovanna Maglia a cui avrebbe affidato la fascia dopo il Tg1, una fascia ambitissima perché ci sono migliori di persone, che fu affidata a tanti giornalisti tra cui Biaggi, Ferrara e tanti altri, no, la Maglia non va bene, lei oggi risponde ai giornali, dice perché sono rimasta la craxiana nella testa dei grillini, non riesco a capire perché ce l'abbiano con me, insomma io la metto diversamente, vabbè e la Maglia non va bene, che tra l'altro una donna che ha raccontato il fenomeno Trump dei sovranismi con un'intuizione che il resto dei giornali non andavano bene, ma perché la fascia del Tg1 deve essere assegnata a un giornalista diverso dalla Maglia? Quali ha di criteri migliori della Maglia? Qual è il motivo per il quale la Maglia non va bene? Perché ha previsto che Trump diventasse Presidente della Repubblica rispetto ai nostri perfettini giornalistoni di tutti i grandi giornali che non avevano capito niente, allora si dice che lei è una sovranista, vedete io litigo con la Maglia perché la Maglia in temi diciamo di questo governo secondo me è troppo filogovernativa con i 5 Stelle, ma non riesco a capire quale motivo al mondo lei non debba fare e non possa avere una fascia dopo il Tg1, ma che c'ha la Maglia? Qual è il vostro problema con la Maglia? Va bene? È, come possiamo dire, è veramente insopportabile questa aria panse per cui la Maglia non può fare quella roba là, veramente incredibile, Savona rischia di diventare Presidente della Consob, io non ci credo, Verderami però sul Corriere della Sera ci spiega che i tecnici sono tutti quanti un po' sul chivalà, da Moavero agli esteri a Tria all'economia che peraltro aveva detto proprio al Corriere della Sera che non si era mai provato le dimissioni e mai le vorrebbe fare per motivi di servizio, vedremo se sarà così e direi che su questo ultimo rimpasto governativo è tutto, Claudia dice la Maglia ok, Françoise ma pensè, chissà come si dice bene Françoise, è filo grillina eppure maleducata dice qualcuno, buongiorno dottor Porro, va bene, direi che per oggi è tutto, un grande saluto dalla montagna, oggi è uscito un po' di sole finalmente dopo due giorni di neve, quindi vado, ciao!